Una visita a quella del presidente Barack Obama in Etiopia, incentrata sulla lotta al terrorismo. Il leader della Casa Bianca, incontrando il primo ministro etiope, ha sottolineato l'impegno di Addis Abeba contro i jihadisti di Al-Shabaab. Sono quasi 5.000 gli uomini dispiegati nell'ambito della forza africana presente in Somalia. Sicurezza, ma anche cooperazione economica, un altro punto fondamentale. Gli Stati Uniti sono un partner strategico per l'Etiopia in molti settori, ha fatto notare il premier etiope, come dimostrano i grandi investimenti di qualità effettuati dall'America. Un punto importante, molto incoraggiante per il nostro paese. La cooperazione in materia di sicurezza sta dando i suoi frutti nella lotta contro l'estremismo violento, ha detto invece Obama. L'Etiopia si trova ad affrontare gravi minacce. Il contributo alla missione dell'Unione Africana in Somalia ha ridotto il numero di aree sotto il controllo di Al-Shabaab. L'attentato a Mogadiscio dimostra che i gruppi terroristici portano solo morte e distruzione, per questo devono essere fermati. La visita di Obama in Etiopia accade a due mesi dalle elezioni. Le opposizioni al potere invitano ora Obama a parlare anche di diritti umani e a sostenere le organizzazioni locali.